Domino è un'azienda che fondamentalmente è un'azienda storica, e lavora nel settore dell'aftermarket, quindi della componentistica per moto, hanno sempre fatto componentistica per moto sia da corsa che moto stradali, quindi sia primo equipaggiamento che tutta la parte racing. Principalmente quattro prodotti di punta, partendo con ordine, sono queste manopole, sono le nuove manopole A450, ed è un ottimo compromesso per l'utilizzo racing, le possiamo vedere tranquillamente anche nei campionati mondiali, le stiamo ovviamente sponsorizzando. A livello di prestazioni, insomma, c'è stato fatto un gran lavoro di ricerca e sviluppo, proprio per garantire ai vari piloti il massimo della prestazione e del grip, ovviamente, per migliorare la sensibilità e insomma tutto il resto, la guidabilità. Direi che abbiamo raccolto francamente dei gran frutti, abbiamo avuto molte persone che ci hanno seguito. Principalmente sono passati ovviamente team manager, che gestiscono tutte le squadre con cui noi collaboriamo, non sono mancati piloti parecchio importanti, storici, come per esempio Alex De Angelis e Noriu Chiaga, con cui anche con loro collaboriamo da tantissimo tempo, la cosa ci ha fatto anche molto piacere, insomma, li ringraziamo anche per questa cosa. e ci ha fatto piacere, oltretutto sono passati anche, come dicevo prima, molti team manager, che ci hanno messo a disposizione comunque le loro strutture, hanno messo a disposizione i loro mezzi, per, insomma, sviluppare i prodotti che attualmente lanceremo sul mercato. Di testa, perché per il 2020 abbiamo in previsione di lanciare parecchi prodotti nuovi, soprattutto a livello di tecnologia, a livello di elettronica, abbiamo fatto uno step rispetto ai prodotti che abbiamo comunque venduto fino adesso e ci aspettiamo, abbiamo già raccolto comunque parecchi feeling da parte dei nostri collaudatori e ci vedremo sicuramente l'anno prossimo.